Si è aperto uno spiraglio concreto per la cessione dello stabilimento Riello di Villanova di Cepagatti dopo la decisione dei vertici aziendali del gruppo di dismettere e trasferire la produzione negli stabilimenti del Nord Italia in Polonia. E' questo quanto emerso dalla prima riunione del Tavolo Nazionale della Vertenza che si è tenuto al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma su richiesta dell'assessore regionale al lavoro Pietro Quaresimale che conferma ai nostri microfoni una parziale apertura della proprietà. Ieri abbiamo fatto questa riunione al Mise, c'è stata un minimo di apertura rispetto a qualche settimana fa da parte dell'azienda sicuramente sarà attivata la cassa integrazione che è sicuramente un ammortizzatore che riduce un po' l'impatto rispetto ai tanti lavoratori che appunto lavorano alla Riello ma soprattutto loro sono intenzionati a nominare un advisor affinché si possa aprire una trattativa per eventuali potenziali acquirenti. Si è stato fatto sicuramente un passo in avanti, rimane sempre un'avvertenza su cui stiamo attenti e puntiamo come Regione Abruzzo mettendo in campo tutte le misure di nostra competenza però devo dire che ieri rispetto come dicevo alle altre riunioni i vertici di Riello hanno fatto un minimo di apertura quantomeno la disponibilità a vendere il sito e la disponibilità alla reindustrializzazione dell'azienda quindi sicuramente una notizia positiva. Sicuramente noi cercheremo insieme a Confindustria, insieme al Ministero di dare una forte accelerazione però è importante che tutti gli operai dipendenti possano beneficiare di questa cassa integrazione che ci permette di avere un tempo maggiore rispetto al 15 novembre che sarebbe la data di licenziamento dei 70 dipendenti. In questo arco di tempo in cui comunque i lavoratori continueranno ad avere un'indennità cercheremo di trovare delle soluzioni. la Regione è vicina a queste persone, le tante famiglie che stanno dietro a queste persone faremo in modo di trovare un imprenditore che possa investire su quel sito che sicuramente è importante non solo per Cepagatti ma per l'intera Regione Abruzzo.